Allora Cosmi è arrivata questa vittoria importantissima per l'Ascoli oggi all'Adriatico anche in virtù del secondo tempo giocato dalla sua squadra a nostro avviso è stata una vittoria meritata. Avete mancato solo il colpo del K.O.? Le partite poi bisogna leggerle, considerarle. È chiaro che noi siamo partiti troppo timorosi non volevo giocare quel tipo di partita, ovviamente accorta però la sensazione è che fossimo troppo bassi soprattutto con i quinti e quindi è il solito discorso, i quinti sono importanti se tu attacchi alto gli avversari se ti metti in linea con gli altri tre difensori diventa una difesa a 5 che non ha valore infatti spesso abbiamo subito dei gol proprio su cambi gioco tra il quinto e il terzo di difesa ho fatto un'esamina tattica per farvi capire che poi la superiorità numerica ha giovato e il gol ci ha dato ovviamente più fiducia e la superiorità numerica in quel caso ci ha messo in condizione di sfruttare meglio i quinti che erano ovviamente liberi perché come si stringeva il Pescara noi riuscivamo ad andare esterni e come andavamo esterni trovavamo e quindi Pescara doveva necessariamente correre tanto e in una giornata come questa si paga. Vittoria è sicuramente meritata quella dell'Ascoli in virtù anche di tante occasioni fallite per il raddoppio però il Pescara inizio ripresa ci ha provato e anche è andata vicino al pareggio poi le partite quando non si chiudono si rischia improvvisamente di pareggiarle. Guardi oggi a differenza di altre partite tipo Chiavari dove abbiamo sbagliato ma non siamo riusciti ad arrivare in superiorità numerica ad arrivare tante volte oggi mi è sembrato molto di più sfortuna e bravura del portiere forse un po' pizzico anche di nostro demerito ma molto di più c'è in quest'altra situazione quindi comunque prima di partire ci siamo detti se vinciamo a Pescara abbiamo 99 possibilità su 100 abbiamo vinto a Pescara ce ne abbiamo 40 Nell'ultimo mese e mezzo lei è riuscito Cosmi ulteriormente a rivitalizzare questa squadra che sembrava poter rischiare davvero grosso Ascoli abituato a lottare Cosmi tecnico abituato a lottare fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata 11 giornate fa dopo la sconfitta di Venezia eravamo ultimi a 7 punti dai play out cioè dalla salvezza diretta in un clima difficile perché c'era tanta delusione c'era rabbia è stata brava la squadra siamo stati bravi tutti a rimanere calmi a fare risultati e a giocarci questa partita e a potersi giocare la salvezza a casa nostra nell'ultima partita chiaro sarà una partita difficile perché incontreremo un avversario al di là della bravura a due risultati su uno su tre Cosmi lei conosce il pubblico di Pescara e naturalmente anche quello dell'Ascoli oggi proprio una nota bella è stato rivedere tanto pubblico per noi all'Adriatico Cornacchi anche per voi essere seguiti da 1500 sostenitori anche questa è una spinta in più Sì sì Mascoli la conoscete come Pescara sono piazze che vivono tanto di calcio e si innamorano tanto della squadra a volte questo amore diventa eccessivo e porta magari a vivere momenti di difficoltà era una bella cortiscia io sognavo di venire qui e vincere la partita e che si salvasse il Pescara matematicamente che noi giocassimo contro il Brescia che fosse matematicamente salvo invece è successo che noi abbiamo vinto per fortuna però non cambia niente perché sia Brescia che Pescara dovranno giocarsi l'ultima partita e ci sta tutto l'avete visto nel calcio ci sta tutto almeno per alcuni ci sta tutto a memoria d'uomo non si ricorda da tempo un'ultima giornata così avvincente quella che sarà quella di venerdì tante partite e tanti scontri diretti gare incrociate tutto da decidere negli ultimi 90 minuti no no è vero è vero ma io ovviamente voi non potete conoscere la mia storia però c'è per dire col Trapani abbiamo fatto 73 punti oggi sarebbero sufficienti per vincere il campionato quell'anno arrivamo terzi e poi fumo eliminati in finale proprio dal Pescara col Genoa arrivai primo e mi ritrovai invece che in Serie A in Serie C feci una rincorsa per fare i playoff col Brescia e arrivammo ai playoff non si disputarono perché c'erano 11 punti di differenza quindi ho fatto uno spareggio contro la Fiorentina dopo 40 giorni che eravamo fermi quindi non ho visto tutti è il mio destino e soffrirò fino all'ultimo anche adesso grazie, grazie al tecnico della Scolicosmi